ciao a tutti oggi vediamo un modo un po alternativo per piantare le fragole utilizzando un po gli spazi che che uno può avere adesso vi farò vedere come ho pensato di sfruttarlo io ok visto che ho pensato quest'anno avendo il pollaio avendolo allargato come vedete le galline stanno lavorando ininterrottamente per creare il mio compost c'è un video dedicato per capire cosa sto facendo ho pensato di rendere usufruibile questa ambientazione sia per l'orto sia per abbellire un po il tutto ho piantato come vedete ogni palo una pianta di kiwi che mi farà tutta questa diciamo così l'impalcatura in modo da poter sfruttare la rete in quanto il kiwi comunque la pianta rampicante mi farà sia da ombraggiante per l'orto sia per raccolta di frutta e eventualmente anche per la caduta dei frutti diciamo così marci o comunque malandati potranno cadere nel pollaio stesso e le galline potranno cibarsi degli stessi qui invece ho pensato di prendere piantare le fragole in un modo un po diverso in quanto io ho un grosso problema ma anche un problema un po che riguarda un po tutti sono le lumache le lumache coltivando diciamo con comunque in modo naturale le lumache ci sono non possiamo farle sparire ho pensato di utilizzare questo tubo per sopravvivare le fragole in modo che siano sia comode per me per la raccolta in quanto sono più o meno un metro di altezza sia perché potendo crescere vanno a scendere giù in verticale facendo anche coprendo anche un po il pollaio magari le nostre galline andranno a cercare di beccare eventualmente metterò un articolato un po più stretto e potrò comunque gestirle in modo molto comodo abbellendo il tutto e le lumache non potranno accedere in ogni caso se cercheranno di accedere avrò le mie guardiane infatti le mie galline sono molto vorace di lumache se tenteranno di salire verranno fermate da loro e quindi ci berò anche le mie galline ok intorno a noi ho usato questo tubo sono praticamente tre moduli da 200 e trovate normalmente commercio questo qua è un tubo da 160 160 direi che il minimo come taglia ci esistono anche da 200 e 250 il 160 è il minimo come taglia l'ho riempito praticamente di terra e dopodiché l'ho posizionato infilando uno dentro l'altro ho riempito un modulo per volta di terra e poi le infilati legandole ai palle di cemento dopodiché con un flessibile con un'armoletta ho tagliato dei rettangoli così la terra era già all'interno non ho avuto difficoltà a doverla riempire perché i buchi non sono molto grossi dovessi riempirla dopo sarebbe molto più difficile dopodiché adesso vi faccio vedere qui si vede meglio ho inserito un tubo di irrigazione preparato e ho lasciato praticamente ho fatto buchi da 8 centimetri e ho lasciato uno spazio da 12 centimetri quindi praticamente 4 e 4 sono 4 se prendiamo la metà sono 4 cm da parte 4 cm e 12 di distanza quindi per un totale di 20 cm per pianta o predo questo questa la gocciolante che al buco ogni 20 centimetri quindi mi ritrovo ad avere il gocciolatoio per l'irrigazione un buco per ogni piantina per tutta la lunghezza e poi andrò a collegarlo alla cima al mio pianto di irrigazione quindi potrò gestire l'irrigazione in modo automatico potendo irrigare a goccia in quanto le fragole patiscono molto ristagno d'acqua quindi le ho interrate qui le bagnerò poco poco con l'impianto a goccia eventualmente se ci possono creare problemi di ristagno farò dei buchetti diciamo col trapano sotto in modo da far gocciolare l'acqua in eccesso ma avendo l'ala gocciolante basta bagnare meno dopodiché come vedete queste piantine le ho già fatte le altre le andrò a fare a seguire le ho già messe su ma devo metterle dentro l'ho inserito ho creato il varco nel terreno e le ho inserite dopodiché le ho coperte e poi le ho bagnate in modo abbondante di acqua in modo che la piantina si stabilizzi anche la terra si praticamente si vada a distribuire in modo omogeneo e dopodiché le bagnerò solo più a goccia in modo da appunto non far ristagliare l'acqua come vedete basta poi aprire in questo modo il tubo l'ala gocciolante rimane sopra e non viene interrata e andrà a irrigare il tutto questo adesso vado a terminare vi farò vedere come rimarrà il lavoro finito ecco qui ho finito di piantumare tutta la parte del tubo ogni fiato abbondantemente mi mancano due piantine giù al fondo che andrò a prendere oggi per terminare il lavoro volevo ancora dirvi cime fondo ho chiuso con dei praticamente dei plastica ho ritagliato della plastica l'ho richiusa qui andrò a terminare con un tappo dopo l'ultima irrigazione da inserire modo da inserire tutto all'interno lo fare adesso subito dopo il video e usate allora rimangono contando che praticamente nei giunti ho lasciato questo spazio volendo potevo anche forare ma non volevo andare a indebolire il giunto però va bene così ci stanno 9 piantine usando i 20 centimetri 9 piantine per ogni modulo quindi in questo caso ho tre moduli eventualmente potrei aggiungere un quarto potrei aggiungere un quarto e quindi arrivare ad altre nuove piantine quindi sappiate che ogni in questi moduli da due metri potete usare piantine nuove piantine ok qui in questo caso 27 altra cosa io sono andato a mettere fragole rifiorenti in modo da non avere una sola raccolta ma oltretutto avendo la possibilità di gestire in questa maniera ebbene che possano continuare a produrre oltretutto queste piante andranno a scendere creano dei dei fitto nei che potrò ritagliare e andare a piantumare diciamo per riprodurre delle altre delle nuove per i prossimi anni o per la vendita o come le voglio gestire altra accortezza che sto facendo e finirò dopo ho inserito nei fori sopra le piante dei nidi di fieno il fieno o paglio cosa avete questo per creare è sempre una protezione sia dal caldo che dal freddo per le nostre piantine questo qua questo fieno andrà a impregnarsi di umidità tratterà l'acqua farà sia da spugna e tratterà freddo e caldo in modo da avere bene o male sul intorno alla radice della pianta sul terreno sempre una temperatura più o meno costante ripeto sicuramente se arriveranno grossi pioggi dovrò forare il tubo al di sotto per non far sì che ci sia un ristagno d'acqua ok come vedete potete potete gestire questo sistema dove volete balconi posti dove volete obellire un po se avete orti con dei pali vicino recinzione potete utilizzarlo in modo da poter sfruttare lo spazio in modo comodo e utile e anche creare qualcosa di bellino e profumato ok anche con questo progetto abbiamo terminato e vi farò vedere come cresceranno le nostre piantine e vi terrò aggiornato ciao a tutti alla prossima